Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa GFC internazionale in vista della gara di domani sera contro lo Young Boys. Ci sono domande, prima per il giocatore, prima con noi abbiamo Ian Bissek e il nostro senatore Simone Inzaghi, cominciamo con le domande per Ian Bissek. Corriere a sera. Ciao, Ian. Ciao. How important was the victory of Rome and how difficult is this match a few days before Juventus? Of course, we're very happy that we won the game in Rome, but that's a thing of the past now, so we're focusing on tomorrow. It will not be easy, because we know we're playing a good team. In the Champions League, every team will give 110%, but so are we. And we're not thinking about Juventus right now, because that's just playing with our focus. So, after we win the game tomorrow, then you can ask questions about Juventus. Media set. Bissek. But, Ian, I'm wondering, what's your dream for this season with Inter? We want to win as many games as we can, we want to repeat as winners of the Scudetto, we want to win every competition we're in, also the Champions League, but of course it's not an easy thing to do, but we will do our best and tomorrow is another step on the way. Sport Italia. Sport Italia. Ciao, Ian. Qua. Senti, qual'è stata dal punto di vista difensivo finora la difficoltà maggiore? So che capisci in italiano. Sai anche parlare in italiano, secondo me. Can I answer in English? Yeah, a lot of people have been talking about that we're not as strong defensively this year as last season, but I don't think that's a thing. I think football is not as simple that you can simply say, yeah, they conceded two goals, they're not a good defence or something. I think in football there's a lot of luck also sometimes. I don't think that all the goals we conceded are like super good play by the opposition. Sometimes the ball just goes in. We're still a good defensive team and we proved it in Rome on Sunday and we will try to do that again. Rick? Yeah, Ian, man darf auch auf Deutsch fragen stellen, hab ich gehört. Ian, possiamo anche porrre te le domande in italian. Prima, Ian, com'è fare il primo? Prima del primo, cioè Ian Sommer. Sono sempre felice quando ho dei colleghi che parlano poli, il tedesco è un ottimo portiere, mi dà molta certezza, è qualcuno a cui si può passare la parola quando si è in difficoltà. Credo che sia un'ottima sicurezza per giocare con Sommer. Ciao, Ian. Sir. What difference do you see in your level, in your performance this year compared to your first year in Inter? And do you look at yourself just as centre-right defender or do you think you could definitely take over the central position in the defence? First of all, I came from Denmark to one of the biggest clubs in the world, so that's not an easy step to make, but I have tremendous confidence in myself and I think that I've done fairly well, maybe better than people have expected. But for me, it's just keep on learning because I have very experienced teammates so I can still learn a lot, especially in the fase defensiva and I will keep doing that. So I think my level is rising and I hope that it doesn't stop now and also to me it doesn't matter what position I play. If the coach says you play Quinto, then I play Quinto. If you say a sinistra I play and on the left side it's no problem for me. So I just want to get game time, improve my level and then reach my goals for the season. The last two questions. The last two questions. The FC Inter News. Hello, Jan. Hello. Hello. I want to connect to this last question. I want to ask if within the start of this season you think you have to reduce the gap on the stage with Benjamin Pavard? il tuo backup, il tuo alter ego nel ruolo, grazie. L'ultimo è l'FC in termini del 208. Ciao Jan, all'Inter quest'anno è arrivato un altro ragazzo che sta facendo un percorso come l'hai fatto tu lo scorso anno, che è Palacios. C'è stato un momento nel quale magari tu pensavi di non giocare, hai avuto un po' di difficoltà all'inizio, poi ti sei affermato. Hai avuto modo magari di parlare anche con lui di questo, del percorso che sta facendo, di cosa potrà ottenere? Sì, non è facile per lui, ho stato in stessa posizione come tu hai detto. Io potrei più aiutare se non avevo la lingua barrier, quindi non è così facile, ma tutto posso dire è essere patiente e continuare a lavorare. Perché ho dovuto fare la stessa, la prima 4 mesi che ero, ho avuto magari 7 minuti o qualcosa. Io ho dovuto continuare a creare, perché in Italia il football è un po' di differenza, e hai avuto di tutti i nostri posti. Io ho avuto questo l'anno con Benji e Matteo D'Armian. Stavo guardando loro molto in training, guardando cosa facciano tatticamente e cose così. E credo che Thomas è un figlio smart, quindi credo che farà lo stesso. E poi o dopo, il coach lo darà anche alcuni minuti per aiutare. Ciao. Buonasera. Ciao. E volevo chiedere, arrivate con qualche infortunio di troppo, soprattutto a centrocampo, a questa partita. Affrontate una squadra che sta stentando anche nel suo campionato. Che rischi presenta questa partita? Le chiedo anche se inconsciamente c'è il rischio per voi di pensare già alla Juve. No, questo pensiero non ci deve essere, perché sappiamo il nostro modo di ragionare che è partita dopo partita. Adesso sappiamo che domani avremo lo Young Boys. Lo Young Boys è una squadra che l'anno scorso ha stravinto il campionato. Quest'anno ha avuto qualche problema iniziale, ha cambiato l'allenatore. Domenica hanno battuto il Lucerna che era in testa della classifica. È una squadra fisica, è una squadra che fa le coppe da tanti anni. È una squadra a cui bisognerà fare molta, molta attenzione. Sport Italia. Ciao Simone. Ciao. Senti, sto molto sull'attualità, perché i quattro infortuni in quattro giorni ti hanno cambiato i programmi per quelle che erano le rotazioni previste in mezzo per lo Young Boys. A questo punto la domanda più immediata è se Zilinski ne ha per partire dall'inizio. Per quanto riguarda le rotazioni, chiaramente abbiamo avuto un problema traumatico di Aslani. Il venerdì l'ultima palla dell'allenamento e quindi abbiamo avuto quel problema. Sanaloglu ha avuto il problema domenica. Quindi chiaramente le rotazioni a metà campo sono limitate. Zilinski ieri ha fatto una buona parte dell'allenamento. Le sensazioni sono buone, ma manca ancora l'allenamento di oggi. Quindi dovrò fare delle valutazioni. Corriera Sera. Scusate. Ciao Simone. Volevo chiederti, il fatto di giocare sul sintetico, che preoccupazione ti dà e cosa cambia? E se Bastoni gioca dall'inizio? Per quanto riguarda Bastoni sto facendo delle valutazioni, sia lui che per Di Marco. perché domenica hanno fatto la terza partita consecutiva. Quindi dovrò fare delle valutazioni attente. Per quanto riguarda il sintetico, cambia. Cambia perché è inutile dire che è uguale, non è uguale. Ed è per questo che siamo venuti a fare l'allenamento qui oggi, cambiando le nostre abitudini. Quindi siamo qua, faremo l'allenamento e ci dovremo abituare in poco tempo. nell'ora che faremo oggi qui sul campo. Bisognerà chiaramente prestare molta molta attenzione al campo, allo Young Boys, che come ho detto prima è una squadra che è strutturata, che questo allenatore nuovo lo conoscevano già dallo scorso anno. La partita di sabato che hanno fatto alle 15, alle 18, scusate, contro Lucerna, hanno fatto una buona gara. Quindi ci sarà da prestare molta attenzione. Gazzetta dello Sport. Salve mister. Ciao. Volevo chiederti, che sensazione ti lascia la partita di Roma, la vittoria di Roma? Perché sembra quasi che l'Inter abbia fatto uno scatto in più rispetto all'anno scorso, cioè riesca anche a vincere le partite, diciamo, non andando al 100 all'ora. Sei d'accordo su questo? Non lo so perché è difficile, insomma, capire. Grazie ai ragazzi. Gli ho fatto i complimenti perché abbiamo giocato in condizioni difficili. Al ventisettesimo del primo tempo avevamo finito gli slot. hanno dimostrato un grandissimo cuore i ragazzi. Poi se pensiamo che dobbiamo andare a Roma su questi campi molto, molto difficili, è la storia dell'Inter che lo dice. Con vincere 3-4 gol di scarto è difficile perché abbiamo dei avversari di fronte. Avevamo di fronte una Roma che ha qualità, che ha investito molto nel fare la squadra. Quindi io mi sono preso una grande prestazione, una vittoria importante che ci deve far proseguire nella striscia di vittorie che stiamo facendo, sapendo che siamo all'inizio di queste sette partite di venti giorni dove purtroppo abbiamo avuto delle problematiche che dovremmo essere bravi a risolvere il più presto possibile perché chiaramente ho bisogno di tutti. Tutto mercato web? Buonasera mister. Volevo ripartire un po' dall'ultima risposta che ci ha dato Bisse, che penso anche al fatto che ci sia per esempio Bellenbrook a disposizione in questa trasferta. È inutile ricapitolare tutti i meriti che hai avuto, hai migliorato tantissimi giocatori, hai vinto anche contro i favori del pronostico spesso. Pensi che l'ultimo step da fare anche a livello personale possa essere quello di diventare un allenatore che prende un ragazzo della primavera e lo lancia, lo fa diventare un titolare affermato, un campione affermato? Grazie. Chiaramente i ragazzi devono metterci chiaramente del loro perché per quanto riguarda la mia carriera da calciatore è quella di mio fratello che sono quelle che mi vengono in mente prima. Prima di giocare in Serie A abbiamo dovuto fare la cosiddetta gavetta. Siamo andati nei campi di Lega Pro. Io fortunatamente dalla Lega Pro sono riuscito a saltare subito ad arrivare in Serie A. mio fratello è passato a Serie B. Questi ragazzi devono continuare a fare così. A Roma alla Lazio ne ho lanciati tanti, qui all'Inter qualcuno di meno, anche se qualcuno ha giocato e c'è la speranza di poterne lanciare ancora tanti. Chiaramente toccherà loro dimostrare. Berenbrook e Aidu, per fare un esempio, sono qua non perché eravamo in 15 ma perché l'hanno meritato che sono stati con noi all'inizio del ritiro. sono due giocatori che meritano. Calciomercato.com e poi chiudiamo con Blick. Buonasera mister. Ciao. Una fase di emergenza. Manca Slani, Manca Ciananoglu, ha messo Barella davanti alla difesa e ci siamo accorti tutti che non è proprio il suo. Cioè fa fatica a mantenere la posizione, va via, lascia un buco. Sta pensando a qualcosa di diverso o nell'emergenza è proprio Barella per forza il play? Ma io sono stato molto contento di quello che ha fatto Barella davanti alla difesa domenica, come l'aveva fatto l'anno scorso a Lecce quando avevo tolto a Slani, come l'aveva fatto a Udine quando lui e Frattesi sono andati in quella posizione. Secondo me ci sta dando una grande mano lì, ce l'ha data pure domenica. Domani chiaramente uno tra lui e Zelischi giocherà lì, perché in questo momento non avendo a Slani Ciananoglu dobbiamo mettere un giocatore di quelle caratteristiche. Per Zelischi faremo delle valutazioni oggi, ieri ha fatto un buon allenamento, parlerò con il ragazzo. Barella e Mkhitaryan chiaramente Fratte hanno speso tanto, sicuramente giocherà Frattesi, poi degli altri tre ne giocheranno due dall'inizio e uno probabilmente entrerà. L'ultima, Blick. Last one. Sì, buonasera mister. Sera. Come vedete attualmente Jan Sommer? È la prima stagione dove non è più nazionale, adesso l'unica internazionale che è rimasto il football club internazionale. Ha cambiato qualcosa per lui o come lo vedete? No, è cambiato che rimane più tempo da allenarsi con noi che chiaramente aiuta, però di Sommer posso parlarne solo bene. È un giocatore che ho voluto fortemente insieme alla società, è un grandissimo portiere, ma oltre che essere un grandissimo portiere è un grandissimo uomo perché è una persona con cui si può parlare sempre, cerca sempre di aiutare i propri compagni, gli altri portieri, gli altri giocatori. L'Inter, oltre che aver preso un grandissimo portiere, ha preso una grandissima persona. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera. Grazie. Grazie.